Sei un sold, anzi sei una merda per me, sono anni che te fai, anzi no, li corrompi testa di ca, sold, 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 tutti in giro, in the comments, hashtag, andate a recuperare l'ultima sfida sia su FIFA 22, sia il What's My Value, quello normale che facciamo solitamente, lascia perdere, lo ricordi tanto, fai finta de non ricordatelo, ragazzi miei, ancora oggi bestemmio per quell'episodio, poi se mi riguarda tutta la playlist lasciate perdere, ciao ragazzi, ben ritrovati a tutti, 6.000 mi piace, entro la mezzanotte, non arrivano mai, ma li vogliamo vedere, questo del solito è il periodo buono, è il periodo in cui questo video viene visto di più, quindi mi raccomando anche per una nuova sfida, oggi facciamo FIFA 22, alla prossima facciamo il classico, va bene, chi vale di più, iscrivetevi, attivate la campanella, così restate sempre aggiornati, abbiamo un secondo canale YouTube de calcio completamente parallelo a questo e un terzo canale YouTube non de calcio, trovate tutto in descrizione o durante il video compariranno qui, se volete stare sempre aggiornati sul mondo del calcio, sulla vostra squadra del cuore, vi proponiamo ragazzi un modo completamente gratuito per farlo, e vi basterà passare sul link in descrizione e correre a scaricare OneFootball, la migliore applicazione per seguire tutto ma proprio tutto il mondo del calcio, ragazzi non c'è niente altro da aggiungere, non ce la fai, non c'è nient'altro da aggiungere, trovate tutto in descrizione, l'applicazione è completamente gratuita, ah si, ah si, no perché l'ultimamente lo facevamo, ah no, penso che sia uno delle 1, ah, 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 non ce la faccio più oggi, ma che cosa succede, non lo so, non parlo più, non parlo, ragazzi miei, nuova sfida, FIFA 22, what's my value, tra virgolette, ma questa è la sfida gloverall, Si è una Ma hanno suggerito di cominciare Vai forza parti Perfetto ti sei risposto da solo Perfetto No vabbè dai sto tranquillo Pensavo ti date un po' di No 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 poi ho visto Alejandro Grimaldo Ma che c***o ne so io Questo è il 79 Ragazzi Ragazzi vedete che non serve a niente Dice comincia tu che almeno Hanno detto sfati il mito Sblocchi la maledizione La maledizione è una questione che lui Non è un algoritmo che gestisce Vedete perché di solito comincia lui E gli va sempre in scioltezza C'è un collegamento diretto ragazzi È un qualcosa veramente di clamoroso Non gli servirà niente Per me è 77 Ma tu sei Ma tu sei veramente Perché ne so io pensavo Pensavo se massimo 70 Perché sono scemo Scusami eh Se tu lo sai come funziona sto gioco Se c'è un 79 Quante probabilità ci sono Che te capita uno più basso? Sono pochissime Ma può capitare È un po' capitare È troppo più basso È troppo difficile Era più La risposta più logica da te Era più alto No perché solitamente con me funziona all'opposto No invece no Con me non funziona come dici tu Perché avessi fatto quel ragionamento Cliccando Sì Vipa nel giro del 0,6 Avrebbe cambiato nove parole Settanto 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 Settantanove E io avrei detto più alto Settanto 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 Vai Quindi hai fatto uno Hai fatto uno Vediamo Questa la so Questo perché faccio Su foot Devo fare i cosi portoghesi Devo fare Eh sì Una volta aveva la premier Una volta la liga Io vi ricordo che Brozovic Non c'ha proprio un overhaul Bassissimo Vi sembra che è più alto L'83 L'84 Quanto ho fatto io? Basta Hai fatto uno Hai già pareggiato Hai fatto uno E Romero Lukaku Allora ragazzi Allora ragazzi Allora ragazzi Romero Lukaku Allora ragazzi Allora cioè Io Quando Lukaku non è solo In nome di un calciatore Ma io non consiglio Io Ma per me No per te Io alzo le mani Eh E non mi resta che dire Più alto Il mio 2 Lo porto tranquillamente A casa Vai Il primo Ricordati Ricordati che stiamo Concorrendo per il record Che è D29 Esatto De chi era quel record? Dai però va di cara tuo Non mi ricordo Era mio Era mio Non mi ricordo Ma ho deciso io Che era mio Che sicuramente l'ho fatto Io però Ok Sì Proseguiamo Più basso Riccardo Pereira Però sai che faccio Io adesso sbaglio di proposito No Non devi sbagliare Dei proposito Devi giocare Perché questa Non la sai Ah no La so che no Non vogliamo darti spunti Per poi ricordare I overhaul Degli altri giocatori Che potrebbero ricapitarti Ah Direttamente Lo sai che io Non mi ricordo niente Su l'82 Su l'82 Vi dà l'81 Vi dà l'81 Ecco Questo potrei non saperlo Veramente Però Penso sia calato un pochino Dico più basso 81 Ok L'Engle 82 Ottimo Ma qual è ottimo Io non c'ho a parlare Ottimo Dejan Kulusevski No Buono Allora hai fatto 8 8 Vabbè comunque ho vinto 1 a 0 Intanto Nel momento Questa l'avevamo fatta Ma non mi ricordo Ragazzi Mi pare che era proprio 82 Ragazzi Mi pare che era proprio 82 83 è troppo Che niggaz C'ho paura Alfonso Davis 82 No infatti Alfonso Davis 82 Non l'ho Ancora faccio fatica a capirlo Su FIFA Io Te posso dire Io pure mi ricordo 82 Non so perché Non so perché eh Mi ricordo pure 82 Io mi ricordo Secco 82 Però Possibile Non lo so Io Te dico la verità Ma io pure Mi ricordo Non ti faccio influenzare Ma io avrei detto identico Io avrei detto identico Ma via Vedevi ringraziare No no Io pure me lo ricordavo Mi ringraziare Se tanto Tanto Ma che gli dico Ma che gli dico io a Florian Toven Florian Toven Va ta pia Toven Va ta pia Ma che ti racconto io qua Col Tigres Se non mi sbaglio Gioca Attualmente Io penso che Sia 81 80 E' calato un pochino 80 Voglia di crescere Darwin No Nunez Questo è l'obiettivo Mi pare della Fiorentina Se non mi ricordo male In caso di Addio di Vlaovic Dai Mike Mike Vignando 84 E vabbè qua Diciamo che vado a solcare Un terreno conosciuto Phil Foden Ovviamente Pensavo Ma almeno 85 Ma non posso aver fatto 4 Un'altra volta Ma prima hai fatto 1 Vabbè ho fatto comunque Poi Basso Perché devi Perché devi sottolineare Lo schifo Aspetta Allora Marcus Turam Adria Rabiot Di poco Beh più alto Rabiot Ne mancano 3 Papu Gomez E ancora un bello vero L'85 Ne mancano 2 Che è sta faccia? Non lo so Ok Non lo so Ok Allora Jude Bellingham Ovviamente È un centrocampista Importante Chiamiamolo più offensivo Più che un centrocampista Insomma Ma è tanto Tanto giovane Eh Tanto Sai che C'ho paura Di che Può essere più alto Ad 85 O pari ad 85 Quindi Potrebbe esserlo Tranquillamente Io Ho la sensazione Di direi che Poco poco più basso Oh santo ce l'ho Pensavo fosse tipo 83 84 Ma se Ma se Ma se Ha stronzo 82 Capito È perché Non riesco a capirgli Alcuni overall Alex Tejas Più alto Siamo a 4 Ma è pareggiato Ecco Mbappé Io lo so Me lo ricordo Io L'overall Deinaki Williams Me lo ricordo Guarda Ti posso di? Eh Mi sembra Che è 81 Mi sembra Mi sembra 81 Ma sono anche Un pochino Indeciso Su 82 Identico Quindi Ho preso il dubbio Potrebbe essere 83 Però sai Fai tu Only the brave No Eh Questa la sbaglio Only tu zia Questa la sbaglio Vai C'hai tempo Per pensarci Ovviamente No Ma su questa Meno c'è ragione Meglio è Quindi Confermo la prima Identico Identico 81 Do San Vlau Quindi ho fatto 5 2 a 0 Poi Interro qua Poi c'è mezzo Più alto No 78 Pensavo fosse almeno 82 Vabbè 5 Fermate Io lo sapevo Io lo sapevo Che era 81 Tu ce stavi pure A pensare No infatti ho detto Minchia chi William Ho detto subito Se fai questa Va le due Vai Forza Calvin Phillips 81 Già stava a sudare Già mi stava a piancurare Mesamount Leggermente più alto 83 Pensavo 82 Ma va bene Rafa Silva Io guarda sto ben figa Proprio Non lo ti cedio Infatti te stanno Li odio Li odio Li odio Li odio Li odio Li odio Ti stanno tartassando Li odio Poi manca a farla apposta Che squadra Deva capità Il Ben Ben figa Capito Però ma piamme per culo Io ipotizzo Guarda potrebbe essere Un 84 89 Mamma mia Mamma mia Mamma mia Senti 84 85 Va bene 85 Kyle Walker Stanno Berguin Io penso 84 80 Ok Va bene Che basso Vai Ricky Puig E' un po' più alto Di 76 Ancora 82 Deve ronda ragazzi E per sempre Pepe 97 Ok Eccola qua Va bene Eccola qua Ma sto troppo basso Ancora quanto Sto appena Sonna E' 91 E' 89 E' 89 Questa era identica Infatti Ma io che c***o ho visto L'altro giorno Sono 90 Ma infatti Tu sei sognato No E' una medicina speciale Eh Lo vedi Che sei S*****a 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 So sbagliato Sei un rimbambito Sei veramente Ma quale rimbambito Sei un rimbambito Ma era pure 91 era Sei un rimbambito No sei un rimbambito E' una medicina speciale Della zia coreana Che ce faccio Con 8 Oh io non ho fatto Più di 8 A sto giro Cioè quindi Potrebbe essere pure Che non ce la faccio Guarda qua Che ragazza Allora Cavani 81 85 Quei guain E ok Tommy Abraham 78 78 E va bene Na 81 Non c'ho Che avessi messo Più basso Non c'ho voluto Pensare più di tanto Ibrahimovic 84 Più alto Stiamo a metà strada Penso sia più basso 79 È palese È palese Shakir Alfonso Davies Lo sappiamo bene 82 E siamo a 6 Ma che sfida è Alessio Ma che sfida è Ma non c'è più Ah Ci ha fatto la 2 Pensavo fosse 83 Sì Le ricordavo 83 Ma fa lo sborone Lo sborone Ma te faccio vedere io A te che te combino Vai forza Ma te faccio vedere io A te che te combino Vedi a far lo sborone Ancora Basta C'è la famiglia C'erando con te eh C'erando con te eh Uno Vai Uno Vittor Osimè È 80 Osimè Annaggia se ne ricordate Eh me lo ricordo Sì che me lo ricordo Però Marchignos ovviamente 80 Mi ricordavo 88 Regalino 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 Azzo Questo Shakir Ragazzi Poi per un attimo Ho pensato Dico Ma che stiamo a fare Serie A No Stiamo a fare Non è Chi vale di più Ruben Diaz Diaz 86 87 Va benissimo 82 79 Quell'altro Che è 80 Vinicius Che è 82 Mi pare Edoardo Camavinga È inutile che me guardi No no È inutile che te guardo Che mi guardi a fa Camavinga Ne è mai stato Col 380 Mi pare Ti ricorda Ce l'ho perso di vista Da quando è arrivata Real E quindi Perché c'ha 12 anni C'ha Ma vabbè Ma ce n'ha qualcuno Di più Però 13 e mezzo Mi sa Manca 14 Arriva L'avranno alzata Almeno 80 Da quando arriva Da Real Madrid Dove ancora Però se Rodrigo è 70 Guarda che bucio Che bucio Ah Basta 83 84 Ok Cioè Tutte le altre Mi stanno a mente Ok L'aspetto L'hai fatto Che c***o Vedi Non vedi che c***o Però Ok Quanto sto 10 Per quanto No Penso Bell Attaccati Attaccati al c***o i stessi io non te sopporto quando fai così ma lo dici tu che te li capire l'altra volta la fa silva ma te sei i stessi che fai tu cioè io per un bigli ricordo eh zitto 89 termini dao più basso vai poi dire che uno veramente non tira giù guarda il falcao è calato 78 mamma me sta a pian colpo perché te sta a pian colpo icone obiettivo della fiorentina non ci posso crede ma come fai mamma mia ma mi sta suda freddo no vabbè stefan savic federico valverde che non è bernardeschi eh io mi ricordo non so perché valverde 83 ma stiamo là questo potrebbe essere 83 84 85 questo senza ombra di dubbio faccio come prima la prima che mi è venuta a mente la sparo vedevo sempre fida vedevo sempre fidate quello che mi ricordo per primo 85 siamo 10 9 no stiamo a 9 stiamo a 9 no attacchi al ca**o e stiamo pari non ci credo non ci credo non ci credo allora io mi ricordo delle ali era calato un botto e io se non mi ricordo male era proprio 82 era proprio 82 allora l'ho fatto già due volte la prima che mi ricordo non ero mi ricordo 82 se hai vinto se indovini abbiamo avvenuto deficiente lei che ci pari ma come pari? quella prima valeva a 2 oh un'incororso stava molto pari ma che bevi ma che bevi ma che bevi popolo spazio al naso non c'è la sfida infinita guarda questo se se pensavo che aveva vinto pensavo di aver vinto sì ma faccia d*****a ma non ci gioco più a sto gioco te lo dico non ci gioco più Non ne voglio più sapere Basta Mi sa che è 83 ormai La seria la faccio amammorata Non me lo fino mai di pezza Ma chi lo vuoi ammorata Sta affarita Ma può essere secondo te più di 83 Se più di 83 è uno scandalo Ma che c***o è da me Dai che ho fatto a zero Dai che ho fatto a zero Me ne è basta una Me ne è basta una Non è possibile di più accalci Oh Depple 83 ansufati Oh Ma vattene Come è giusto che sia Se l'ha fatta a casa Ragazzi non ce la posso fare ragazzi Mamma mia ragazzi Mamma mia ragazzi Che partita Ma che hai fatto Ma che hai fatto Vai si festeggia Alla prossima Me ne vado Me ne vado Perché guarda Tanto ogni volta ce ne sta una È inutile Me ne dai si contentini Me fai male in due Me fa pure vince Perché tanto lo sai Che te ne lega Ma vattene va Chiudi sto video va Ciao ciao ciao